RESIDENT EVIL Jill per Resident Evil 1 per l'originale mi ricordo che Chris partiva senza pistole con il solo pugnale quindi per questo si tendeva a preferire Jill che invece aveva una pistola giusto Mattè? se mi stai guardando sto portando ultimamente su Twitch Resident Evil 4 Remake ed è incredibile nell'originale questa sequenza era girata da Torib in carne ed ossa ed era molto bella era d'impatto bravo team bravo team bravo team helicopter was a derelict can't do wasco ho trovato una scuola per i altri membri, e si è diventato come un sogno. Tutto questo mi fa pensare a Predator. Quasi quasi stasera me lo vedo va. Il primo con Schwarzenegger dico. Cani maledetti, ti odiavo. Bello. Oh, quello è Barry, è vero? Grande Barry. Che ben ricordi che c'ho, mamma mia. Questo è il mio Resident Evil preferito. Adoro l'ambientazione, mi fa impazzire. Poi chiaramente... Non c'è la sua casa normale, è sicuramente. Hey, Whisker, dove è Chris? Jill, no. Non vuoi andare fuori da lì. Ma abbiamo bisogno trovare... Cosa era? Chris? No. Jill, vai e investiga. Io ando con lei. Chris e io andiamo un lungo passaggio. Ok, voi due andiamo. Sperrò questa area. Stai fermo. Eh già, infatti stavo pensando proprio a questo caricamento. Molto bello da vedere. Tra l'altro. Io ragazzi... Anni e anni fa portai un video. Direi che si andivo l'uno. Lo portai. Allora. Ok. Eh sì, il nastro inchiostratore. Ehm... Voglio vedere. Così almeno. Dicevo? Questo è il mio Resident Evil preferito. Per vedere l'ambientazione. Anche il secondo è spaventosamente bello. Infatti lo metto al pari merito con il 4. Del 4, quello che a me non piaceva era il finale. Lo trovavo... Esageratamente action. Diventava un disastro. Queste istruzioni corrispondono alle configurazioni default. Ah vabbè. Sollevano una guida. Va bene. E là è... Ehm... Ok. Sì. Mappa. In corso. Completato. Ma... Cioè ma questo remake, tra virgolette... Che poi sì. È chiamato remake. Se non sbaglio remastered. Non mi ricordo più. Ehm... Ci permetteva di vedere esattamente come Resident Evil 2. Remake. Le stanze non completate. Completate. Quindi con questo colore rosso. Vuol dire che qui c'è qualcosa da prendere. Ok. Bello. Non me lo ricordo affatto. Bellissima. Bellissima. Cristina automatica della Stas. Sparaproietti di calibro 9 mm. Parabellum. Che figo che è Resident Evil ragazzi. Mi cami... Mi cami... Un grande. Mi cami davvero un grande. La macchietta a scrivere era qua. Non me la ricordavo affatto. Allora. Quindi con R1... Apro la mappa. Vedete già mi sbaglio con... Con il remake di Resident Evil 4. L1? Niente. L2 mira così. Con R2 sparo. L'istruzione ce l'hanno dette prima. Però ho schippato. Che bella atmosfera che c'ha. Jill. Vedete se puoi trovare alcune altre clue. Spero di esaminare questo. Siamo speriamo che non sia Chris. Mi piace... Come sono stati riprodotti... I personaggi. L'emblema. Lo prendiamo subito. Dalla finestra di stato scegli un oggetto... E quindi selezioni il comando esamina. Verranno misurati i dati dell'oggetto. Emblema. Non c'è niente di insolito. Sì perché è consumato i lati... A causa del frequente utilizzo. Quindi il gioco ti faceva capire... Serve a qualcosa... Vai incastrato a qualcosa. Ovviamente certo. Però... Se ci riclicchiamo... Niente? Si prende il tempo eh? Ah niente! A posto! Allora... X niente. Se premo A... Niente. Cerchio niente. E triangolo questo. Ok. Ok. Attenzione ragazzi. Qui ci stanno con le scene più iconiche... Di tutti i Resident Evil. Una scena che ci ha abbastanza terrorizzato da piccoli. Vediamo se è all'altezza. Sì vai l'hanno... Riproposta molto simile no? Ok R2. R2 si. Mazza quanti proiettili. Più che alto come si ricarica? Non lo so. E' davvero morto? Mi ricordo che... Lo si capiva da una pozza di sangue. E infatti... Sconfiggio uno zombie. Fatto. Ecco vedete la pozza di sangue. Per caricare. Se proiettili... Ma forse non c'era bisogno. Sì no per forza. Ultimamente... Mi sta prendendo troppo bene... I giochi... Di una certa età. C'è nel senso. Resident Evil 4 remake. Mi ha fatto unire la voglia di Resident Evil. Ed è incredibile il lavoro che hanno svolto quelli di Capcom. Sembra che abbia qualcosa in mano. Videocassetta di Kenneth. E' la cassetta che apparteneva a Kenneth. Ho bisogno di un videoregistatore per vedere cosa contiene. Questo ricorda anche il set. O sbaglio? Una roba simile no? All'inizio. E... E va bene. Ci sta... Ci sta Spectre che ha portato tutto Tomb Raider sul suo canale. Tomb Raider 1 ai tempi. E uscirà ad anno nuovo la remaster dei 3 Tomb Raider. E ora come ora l'avrei giocato molto volentieri. Sarà meglio riferire la caduta a Wesco. Giusto bisogna tornare indietro. Così come il mio amico... Chris. Chris Redfield. Grande amante dei giochi Capcom. Direi sentivolo come potete capire dal nickname. Il suo canale Retro Games Channel sta portando di no crisis. Ecco. Anche per quel gioco servirebbe una remaster. Andiamo che pistolone che c'ha. What the hell is this thing? I found Kenneth killed by this thing. Let's report this to Wesker. Ok. Andiamo. Qui. Un quadro di due cavalieri che combattono. Una spada corta è stata infilzata nel tronco di un cavaliere. Mentre la spada lunga ha trafitto la testa dell'altro. Oddio. Che devo pensare? Che devo pensare? Wansker! Wesker! Jill. Aggiungi a guardarlo. Non lasciare questa sala. Buona idea. Quanto è bella la villa. La villa Spencer. Bellissima. Veramente stupenda. Terrificante. È un'ambientazione davvero che adoro. Prima è meglio finire di spoilatrio. Sì, 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 sì. Basta questo giro davvero? O devo salire sopra? No, eh. Qui c'è ricaricamento. Ai tempi. No, volevo solo vedere il quadro. È inutile che ci clicchiamo perché tanto mi scriverebbe la solita cosa. È meglio esplorare ladrio. Bello. Il fatto che ci sia il riflesso. Non puoi distinguere niente a causa del buio e della nebbia. Meravigliosi sti quadri comunque, eh. Un dipinto olio in una grossa cornice. È bene conservato. I personaggi appaiono ancora molto vividi. Cioè, sarà pure il mio Resident Evil preferito, ma... Non ricordo quasi niente. Non sono un esperto della saga, eh. Neanche per sogno. Ok. Ok. Grimaldello Forse Barrett nell'originale appariva più anziano Me lo ricordo brizzolato Leggermente ma forse è un ricordo sicuramente sbagliato il mio Ho azzeccato? Devo andare di qua? Non credo però Forse avevamo due tre possibilità Mamma mia Mi piace il sound design eh Mi piace Wow che stanza ma che figo che è Ok qui bisogna spostare questo Sì questo qua me lo ricordo Donna con anfora d'acqua Per farlo cadere chissà Vabbè prima andiamo qui No Un inquietante quadro della villa Che spettacolo Pugnale Usando oggetti tattici quali pugnali Potrei sottrattarti momentaneamente dalla presa di un nemico Tuttavia non potrai fuggire se il nemico ti afferra da dire le spalle Per equipaggiare un oggetto tattico Accedi alla finestra di stato E scegli un oggetto dal menu oggetti tattici Quindi selezioni il comando equipaggio Se l'oggetto tattico è impostato sulla modalità manuale Nelle impostazioni comandi Dovrai premere LB per utilizzarlo Ok Ma io non so convinto di aver giocato Questa versione Non mi ricordo più Non mi ricordo più Perché se ce l'avevo su PS4 PS4, PS3, quello che era Vabbè Allora lasciamo così Oh madonna Esatto Ho premuto LB Figo eh Però le munizioni stanno finendo E io questo devo ammazzarlo Dimmi che sei morto Dopotutto c'è il pugnale Niente Non è morto questo Ah si 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 è morto Me lo ridà il pugnale Dai perché non puoi restare Dai Questa cosa è insopportabile Vabbè L'emblema di una spada Emblema Senza entrare in dettagli Ok Ok O vi giuro Qua non ricordo cos'era Tipo Vabbè Si si mi sento scarsissimo Devo ammetterlo In realtà è molto bello Il fatto che non ricordi Quasi nulla Nella realtà L'emblema di un elmo Nella realtà Non mi sarei mai Separato da Barry Certo Sono un agente Speciale Della Stars In teoria Sarei qualificata Per situazioni Più o meno Oddio dai Questa è una situazione Molto assurda Però Insomma In solitario No Io che non sto Sto salvando Sto facendo l'eroe Perché se dovessi crepare Finirebbe Molto male Non ho più munizioni Ripeto Il gioco Non me ne sta dando Non ho sprecato Munizioni Ah ma il corpo Lì ci rimane Bellissimo E Allora io ho usato Il coltello Che mi ha dato Questo ce l'avevo Di base Io Ok Allora Adesso possiamo Entrare Qui Wow Qua mi ricordo Un po' Resident Evil 2 Questo tipo Di illuminazione Adesso no Adesso no Ah si Porca ragazzi Nelle fasi più avanzate In questa Zona Qui C'era una delle cose Più terrificanti Per me dire Si intivo l'uno Un'antipologia Di creatura Ok L2 Più cerchio Caricatore Cade per Ah no Non si vede Non si vede Almeno non credo Questo non mi piace C'è un cadavere Riverso a terra Come si è colpito Da morte istantanea Cosa diavolo è successo In questa villa Così come la lore In generale Io non so niente Qualche informazione Vaga Per questo Io in realtà Lo sto giocando Per essere un po' Più preparato Per Twitch Però ormai È iniziata Alla questa Per quanto posso Portarla avanti Sarò sempre indietro E ci sono troppi capitoli L'erbetta migliorata Che bello Ragazzi Allora Questo è il remake Io mi sono giocato La remastered Io sto facendo Sicuramente una gran confusione Oh no Sto riempendo Il menu Se vado di qua Oh Oh Questo Ah è uno zombie Ma guardate che fattezze Che ha Sembrava Ma che Questa è una meraviglia Nell'originale Non c'era Io non posso Far attacchi alle spalle Vero Allora Se io faccio Così adesso Allora Ok Ok Bellissimo Quella cena Mi è piaciuta Vero tanto Io non ho più spazio No Ce l'ho Ce l'ho Freccia dorata Freccia dorata Sì non è Sì sono vetri Sì sono vetri Vero È chiusa La chiave Dall'altro lato L'hai aperta Che figo Che figo ragazzi Ma non giocherò Tantissimo Tra l'altro Prima parlavo Di giochi Di giochi Di una certa età Ma perché Anche Posta fisso Oltre ai ragazzi Che vi ho citato Prima C'è la Metal Gear Collection Santo cielo Lì parliamo davvero Della mia saga Preferita E ci faccio Un video Ancora devo Giocarlo Ragazzi Devo ancora Giocarlo Ci farò Assolutamente Un video Ma Devo essere Riposato Pronto Fresco Perché poi Io me lo giocherò Alla grande Me lo finisco Roba con 3-4 giorni Il Metal Gear Solid 1 Allora Devo essere In realtà Più sicuro Di Metro Tra poco D'arco Eh No Ho spiegato Due proietti Oh questo Punga è tosto Ok Questo è stato Tostissimo Probabilmente Si poteva sparare Meglio In testa Però Non ci sto Riuscendo Guardate un po' Qua Qui non c'è Diciamo La ringhiera No La vetrata La sa come C'è Noi Somiglia A una donna Mi piace molto La musica Che ci accompagna Mi piace Il sound design Ripeto Davvero Figo E Olè Bom Quella di sotto È la stanza iniziale Dove c'era Barry Che Toccava il sangue Qua quindi usciamo Nell'atrio Ci andiamo a prendere L'oggetto Che abbiamo Fatto cadere Questo silenzio Inquietante Sentite il rimbombo Dei nostri passi Lì Questo ragazzi Nel 96 Sconvolgeva Ha continuato a sconvolgere Anche negli anni successivi Ovviamente Però Gemma blu Ok Una cosa Ma il baule Chissà quando ne troveremo uno Vabbè ragazzi È stata una prova veloce Potrei continuare Non lo so Non lo so Era un attimino Per farmi una chiacchierata Qui con voi Chiacchierà Ma da chiacchierate di che A rigiocare un attimino Adesso Io proseguirò Ma In realtà Perché non posso registrare Più di tanto Altrimenti non riesco a farci Il video Sembra le solite cose Prossimente comunque Uscirà Un video di Metal Gear Un po' come questo Per ricordare dei momenti incredibili In compagnia di questi giochi Di questi prodotti Clamorosi Che hanno segnato la storia Del videogioco Mikami Kojima E che se Un giorno Tomb Raider Un giorno Tomb Raider Sicuramente La Remastered La prenderò Alla prossima ragazzi E che se E che se